Se il gatto graffia i mobili, sono dispetti? Se il gatto graffia i mobili sono dispetti? Beh, non sempre sono dispetti, perché noi spesso attribuiamo dispetti il graffiare i mobili, i bagni o altro. La natura del gatto è differente, non tutti la conoscono. In natura i felini marcano il territorio, e marcare il territorio significa anche graffiarlo, quindi rendere visibile la proprietà a chi passa. Non sempre può essere associabile a un disagio comportamentale. Questo atteggiamento da parte del gatto. L'unica soluzione, credo, sia quella di posizionare un buon tiragraffi che attragga il gatto in un punto di passaggio, perché ricordatevi che le marcature, quindi i graffi sui mobili o i divani, sono sempre fatte in un punto di passaggio, dove tutti possono vederlo. Quindi anche il tiragraffi andrà posizionato in un posto ben visibile da tutti e che il gatto gradirà. Provateci e vedrete che andrà tutto bene. Alla prossima, la bambina! Fai già parte della nostra community? Iscriviti su www.bauboys.tv Potrei fare tutte le domande che vuoi ai nostri esperti.